E a questo punto vorrei che ci raccontasse delle due penne che lui tiene sulla scrivania, che non sono una sola, perché sono due. Un argomento articolo, chiedendo il governo di andare a l'errore. Il governo scrive il mio articolo e non va a l'errore per qualche motivo. Ma ho scritto il stesso articolo probabilmente 500 volte ora. Il altro pen che ho usato quando non mi accorgo 100%. Quando ho sentito più che solo una voce dentro di me, quando ho sentito molte voce dentro di me, I know I am pregnant with a story. Perché le diverse voce sviluppano in diverse caratteristiche. C'è una storia vecchia chassidica di un ragazzo, che in sua capacità come giudice, ha dovuto fare una frase tra due individui che accorgono il stesso gozo. Un uomo dice, questo è il mio gozo, e l'altro uomo dice, no, 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 questo è il mio gozo. E il giudice, il rabbi, decresa, che i due di voi sono giusti. Poi il rabbi va a casa per la cena e la sua isla chiede a lui Dio amico, come si possono essere giusti se si accorgono il stesso gozo? E il rabbi dice, you know what, dear wife, you are also right. Qual è la differenza tra fanatismo e fondamentalismo? Well, fondamentalismo è una delle molte formi di fanatismo. Ogni fondamentalista è un fanatic. Ma non ogni fanatico è un fondamentalista. Ci sono altri tipi di fanatici. People tend to think that fanaticism is something that happens across the television screen from ourselves. In far away countries where hysterical crowds are shaking their fists against the cameras and screaming slogans in gutteral languages. This is not true. The Israeli poet Yehuda Amichai once wrote a wonderful line which I only spoil in translation but that's the destiny of poetry. He wrote, in the place where we are 100% right no flowers can grow. Un grande scrittore non è qualcuno che scrive difficile ma è qualcuno che quando tu lettore tu il lettore lo leggi hai l'impressione che ti parli direttamente al cuore e al cervello e che dica delle cose e Amosos è così è un signore che dice delle cose che tu il lettore forse hai pensato forse hai sentito nella tua vita ma che non sei mai riuscito a definire e ad esprimere. next door to Israel in the same land there is Palestine the clash between Israel and Palestine is not a Hollywood movie with good guys and bad guys it is a tragic clash between right and right the only possible solution the only possible solution is a painful historical compromise I believe in compromiso is a way of life I believe in compromiso is a way of life now I know that young people especially young idealists don't like compromisos young idealists tend to think that compromise is dishonest that compromise is not consistent that compromise is ugly let me tell you in my vocabulary the word compromise is synonymous with the word life Anche all'inizio della seconda guerra mondiale quindi prima della seconda guerra mondiale a Hitler fu dato un compromesso cioè non fu ostacolato nella sua grande idea di espandersi per stabilire la pace la mia domanda è questa riuscirà il compromesso a stabilire una rotta di pace tra tutti i popoli? No, there is one I'm glad you asked the question because I think there is one great exception to the ability to compromise and this exception is aggression I think the ultimate evil in this world is aggression and I think you cannot compromise with aggression aggression has to be repelled Io ti chiedo scusa ma vorrei essere indiscreto so che nel 52 tua mamma Fania si è tolta la vita e che appunto tu hai deciso di lasciare tuo papà Ariè Klausner nel 54 due anni dopo due anni nel corso dei quali racconti nel tuo libro di quel terribile evento tra di voi non eravate riusciti a parlare perché te ne sei andato che cosa ricordi di quei due anni? in the year you are talking about God between the age of 12 and 15 or 16 or 17 I was full of rage I was angry with my mother for killing herself I was very angry with my father for losing my mother thinking that there must be something very terrible about him if she killed herself and I was very angry with myself thinking that if only I was a good boy my mother would have stayed and I went to live and study in a kibbutz in order to be born again this is also when I changed my name from Klausner to Oz Oz in Hebrew means strength and courage this is exactly what I needed when I left home at the age of 14 and went to live on my own in a communal village in a kibbutz e ritiene che in un mondo dominato dal consumismo il modello proposto dal kibbutz possa essere una soluzione condivisibile dei giovani israeliani I think kibbutz is a very attractive way of life for people who are not competitive the kibbutz is the most interesting experiment of the most interesting social experiment of the 20th century and I think it has a future buongiorno io sono Ernesto Ferrero e vi do il benvenuto a questo che è l'incontro conclusivo del possiamo definirlo così trionfale in giro di Amos Oz in Piemonte anche a nome di Rolando Picchioni che è presidente del Sonore del Lino Oz scopre l'ebraico è il primo della famiglia a parlare in ebraico che è una lingua in qualche misura antichissima però allo stesso tempo modernissima e quindi qualcosa che dà la possibilità agli scrittori di reinventarsela come probabilmente qualche secolo fa dice Dante Alighieri dalle nostre parti come tu hai detto Alessandro il moderno è un instrumento moderno musical il moderno è una lingua molto antica più antica che il latino più antica che il greco e per 17 centurie è stato così morto come il greco or as latin e ho capito che ho capito che ho capito che ho capito che ho capito di questo mondo e questo è così vicino come immortale come un morto può essere grazie a tutti Grazie. Grazie.